Allora, molleggia, vai, vai, uh, boom! E questo è il colpo migliore con cui chiuderemo il match. Ci vediamo il primo dicembre a Trieste, io o voi tutti insieme per tenere la cintura a casa ancora una volta, la terza. Il talento, il coraggio, la determinazione, l'intelligenza e la grande applicazione nell'allenamento. I cinque punti di forza del pugile triestino Luca Chiancone, il detentore del titolo dei pesi medi, che venerdì primo dicembre al Palatrieste sfiderà ancora una volta il fiorentino Yassin Ermi. Si tratta della rivincita del match dello scorso 26 luglio finito in parità. L'evento, organizzato dalla Box Duran in collaborazione con l'Ardita Trieste e il patrocinio della Federazione Pugilato Italiana, ha l'ambizione di portare sul palcoscenico nostrano un evento di valore assoluto che prevede, tra gli altri, anche il match della triestina Sara Lombardi nei pesi Gallo. Luca ci ha aperto le porte della palestra della Rui Box, facendoci vivere in diretta un allenamento a pochi giorni dal match che potrebbe poi proiettarlo a livello continentale. Undici anni fa ho iniziato la mia carriera da pugile e dopo undici anni e tanti sogni nel cassetto e tante esperienze fatte sono riuscito il 14 aprile del 2023, cioè questo anno a conquistare il titolo italiano a 60 anni di distanza da Danino Benvenuti. Sapere che sarò io a rappresentare la città, il nostro paese, insomma, in qualità di campione italiano, per me è un enorme motivo di orgoglio e mi fa sentire sicuro delle mie capacità anche perché il lavoro fatto è stato tantissimo e molto intenso. La preparazione è stata molto dura e siamo sicuri di riuscire a portare un grande spettacolo come merita questa città grazie alla tradizione pugilistica che coltiviamo da sempre. Grazie.